Buongiorno a tutti, siamo oggi a presentare i nostri appuntamenti sulla formazione. Da sempre ci occupiamo di formare e divulgare quelli che sono i fondamenti di una medicina basata sulla prevenzione, dall'epigenetica all'inquinamento, all'ambiente, alla nutraceutica, alla nutrizione, grazie a professionisti di eccellenza nel campo della salute, nazionali e internazionali e proprio tra poco, il 25 novembre, ci sarà un importantissimo appuntamento online alle ore 20 che parlerà del ruolo della nutraceutica nella modulazione dell'infiammazione, quindi un appuntamento veramente importante. Poi avremo il 25-26 un evento interessante a Ascoli Piceno in un'azienda dove parleremo di epigenetica e di prevenzione. Il 2 e 3 dicembre a Salerno, a Vietri sul mare, Baia dei Tireni, Hotel Baia dei Tireni, avremo un importantissimo evento, congresso sulla medicina estetica e la rigenerazione. Il 11 e 12 a Palermo, un congresso dove sull'omeopatia, l'omotopsicologia, ma anche la grande possibilità di assistere a due relazioni, una proprio sul workshop sulla rivoluzione epigenetica e poi un intervento sulle costituzioni emeopatiche a cura del dottor Bartolomeo Allegrini. Sempre l'11 e l'11, come sapete, da sempre noi ci occupiamo di divulgare questi concetti attraverso la nostra scuola di alta formazione che è iniziata a settembre e quindi proprio l'11 e 12 settembre ci sarà il terzo weekend della scuola di alta formazione a cui si può iscrivere comunque in qualsiasi momento perché c'è la possibilità di rivedere questi eventi anche online quando si ha tempo e ricordiamoci che ci sono 50 crediti CCM che è un corso veramente propedeutico per poi accedere al Master di Epigenetica che stiamo programmando per il 2022. Quindi degli appuntamenti importantissimi per la formazione e soprattutto per la prevenzione perché chi non si forma si ferma.